ciao a tutti e ben ritrovati insieme per tre e oggi faremo un piccolo gioco intitolato indovina cos'è il quale consiste nel vendare il proprio campanile di gioco quindi qui sarà lei e poi faremo il prossimo video con cui sarà io vendato e dovremo eviare il compa giusto grado per tre mani quindi vediamo un po' di più di questa sfida se ne avvicinerà qualcuna o se ne avviciniamo a questo modo e iniziamo un po' di più e e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.